Grazie a tutti. Cambi l'allenatore, la classifica si cominciò ad allungare un po', hai l'ansia di ricominciare a vincere. E' chiaro che questa difficoltà aumenta la partita in se stessa e quindi aveva un po' timore questa partita. Invece poi l'abbiamo meritatamente vinta, seppur con qualche difficoltà che è normale in questo momento all'inizio con un nuovo modulo, però già è il secondo tempo rispetto al primo per dire che siamo andati meglio, questo ha testimonianza che basta regolare un po' le valvole e il motore gira meglio. Quindi soddisfatto di questo, andiamo avanti. Andremo avanti affrontando poi il Frosinone venerdì sera al Matusa, un Frosinone attualmente secondo in classifica. Sì, il Frosinone è secondo me una delle due squadre più forti del Clodissi all'andata, lo ribadisco ora, la classifica lo dice. Una squadra molto esperta, mestierante, che ha qualità, quantità, fisicità, non manca nulla. Però noi abbiamo fatto più o meno gli stessi punti di Frosinone, non è che tra noi e loro c'è stata alla fine del gioco andata una differenza da dire che loro sono campioni e noi siamo dei sommari. Quindi la partita noi affronteremo con grande serenità, con voglia di fare, è una partita sicuramente utile, non importante per la classifica che noi vogliamo continuare a migliorare e quindi si deve preoccupare anche di Frosinone. Grazie direttore.